Ciao a tutti! Oggi prepareremo le braciola alla messinese al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pane raffermo, parmigiano, pistacchi, sale, pepe, prezzemolo, basilico, fettine di vitello per involtini, provolone dolce, pesto di pistacchio e olio evo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il prezzemolo e il basilico. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pistacchi, il pane raffermo, il pepe ed il sale. Ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 4 a velocità 7. Il pangrattato è pronto a mettere da parte in una ciotola che piente. Senza lavare il boccale, mettere il provolone e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. mettere da parte. Mettere un po' d'olio nella ciotola con metà del pangrattato ed amalgamare bene. Procediamo per preparare gli involtini. La carne che utilizzerete dovrà essere molto sottile. L'allarghiamo. Mettere su ogni fettina mezzo cucchiaino di pesto di pistacchi. Un cucchiaino di pangrattato condito con olio. Aggiungere il formaggio tritato. Arrotolare formando un involtino. Passarlo nel pangrattato. E metterlo in uno spiadino. E proseguire così con il resto delle braciole. Le braciole sono pronte. È possibile congelarle per essere consumate in seguito. È possibile cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti oppure alla brace. Braciole messinesi al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti.